Ragazzi, allora, buonasera a tutti, intanto ringrazio chi mi ha seguito in live, ovviamente le metto private qui su YouTube, rispetto ovviamente all'altra piattaforma che comunque dopo qualche giorno vengono eliminate, l'ho fatta, siamo arrivati a 295 massimo, quindi quasi 300 spettatori, veramente grazie, grazie a Damiano che comunque ci ha tenuti sulle spine per questa indiscrizione di Di Marzio, che poi è stata praticamente anticipata da Romeo Gresti e poi da altri giornalisti, prima di tutto, poi Di Marzio ha riportato questa notizia che poi adesso andremo nei dettagli, non vi dirò il voto anche se l'ho detto in live, quindi chi è stato fortunato a seguire la live che è stata, che l'ho messa privata, sa il voto nel caso in cui dovesse ufficializzarsi questa tradattiva dell'acquisto di Suarez, non vi dirò nulla sui dettagli, cioè nel senso che non vi dirò nulla per quanto riguarda il giocatore a livello tecnico, anche se qualcosina vi antice però comunque perché mi terrò ovviamente molte cose per l'eventuale ufficialità, però io penso che per queste trattative molto discusse, perché ovviamente Suarez a gennaio compirà 34 anni, è un giocatore che molti hanno detto è soggetto di fortuni per un anno strano che ha fatto a livello fisico, con Bertelli secondo me potrà migliorare molto come potrà migliorare Ramzi, Costa no, per me è un caso perso, Costa, e per tantissime altre cose insomma, per me è giusto dire le cose prima, ok, e mettersi la faccia prima anche qualora non dovesse andare poi in porto questa trattativa. Allora i dettagli sono questi, ringrazio Damiano che mi ha informato, allora vediamo se abbiamo dato altri messaggi, ascolta anche questo, aspettate perché ascolto un altro audio. Bene, ho ascoltato anche il secondo audio di Damiano che ovviamente ha preso la notizia di marzo e me l'ha riportato, ovviamente per quanto riguarda Suarez non sarà un extra comunitario, perché ovviamente gioca da parecchi anni in Europa e ovviamente non avrà questo, c'è avrà sgravio fiscale perché appunto per il discorso del decreto crescita, questo cazzo di cellulare, quindi non saranno, siccome per Suarez di marzo è riportato che saranno tra i 9 e gli 11 milioni di netti l'anno, non saranno 22 milioni lordi ma saranno meno, quindi ipotizzo io 16 milioni lordi, ok, quindi queste due cose andavano dette subito. Per quanto riguarda la trattativa Suarez, allora la Juventus ha chiesto informazioni all'entourage di Suarez su quanto appunto chiederebbe lui e questa è la cifra tra i 9 e gli 11 milioni. Suarez probabilmente si libererebbe a 0 dal Barcellona perché riscenderebbe il contratto perché va in scadenza al 30 giugno 2021, quindi 0 appunto il costo del cartellino. Qualità prezzo, la Juventus starebbe valutando appunto che questa trattativa sarebbe molto molto importante anche perché appunto poi permetterebbe di andare comunque a investire molti soldi sul centrocampo ed è per questo che andrebbero, come vi dicevo, a investire appunto sul centrocampo e a spendere meno sull'attacco. Io vi dicevo il primo obiettivo sarebbe stato Benzema, poi ripeto le vie del mercato sono infinite, le occasioni fioccano e quindi la Juventus ha virato su questo giocatore qui. Per quanto riguarda il discorso appunto di Suarez, quando si potrebbe chiudere o meno, se i guain, diciamo meno sarà la buona uscita che chiederà i guain che riusciranno insomma a dare i guain prima si chiuderà, cioè se domani, faccio un esempio come mi ha fatto Damiano, i guain dovesse uscire con una buona uscita di 2 milioni potrebbe chiudersi la trattativa già domani. Faccio un esempio banale, ma è così. Quindi diciamo che è tutto collegabile all'uscita di guain, quindi qualora uscisse i guain il primo possibile Suarez potrebbe venire subito la Juventus. È un gioco, è veramente un gioco di tempi che bisogna muoversi perché comunque ci potrebbero essere altre squadre su Suarez, quindi bisogna veramente muoversi a cacciare fuori dei coglioni questo giocatore, purtroppo, insieme a Chedila. Ok, questo per quanto riguarda appunto questa buona uscita, non so se mi dimentico qualcosa, ah sì, altra cosa, nei dettagli, nei miei giudizi poi entrerò nel caso in cui dovesse arrivare l'ufficialità, perché vi ho detto questo perché molti stanno discutendo il discorso dell'età. Allora, vi dico solo questo. Allora, noi non dobbiamo scegliere tra Suarez, Lewandowski e Benzema, perché io sono il primo a dire che Suarez per me è in fase carante e dovessi scegliere tra lui, Benzema e Lewandowski, quasi parità, sceglierei uno tra Lewandowski e Benzema e non di certo Suarez. Però, se devo scegliere, ok, tra Zeko, Milik e Suarez, scusate, perché questi sono i nomi che girano tutta la vita Suarez. Ma tutta la vita Suarez. Tutta la vita, ok. Giusto per chiudere con questo. E poi, per quanto riguarda il discorso tecnico-tattico, il voto del probabile acquisto e se ci sarà l'ufficialità, ve ne parlerò ovviamente nel video dell'ufficialità. Domani ci sarà probabilmente il video di McKennie, come il caso si chiama, McKenzie, McKennie, adesso dovrò imparare bene la pronuncia. Domani mattina alle 9 le visite mediche, domani in pomeriggio dovrei uscire e arrivare anche l'ufficialità, il comunicato ufficiale, quindi farò il video su quell'ufficialità, su quell'ufficialità lì, ok. Ok, buona notte a tutti, sempre comunque fino a fine Forza Juventus, ringrazio ancora chi è stato in live sia sull'altra piattaforma, sia sulla piattaforma, sia su YouTube appunto, che siamo arrivati oltre quasi a 300. Ringrazio Damiano per le informazioni, ringrazio a tutti. E poi appunto questa notizia è stata comunque confermata dopo di marzo da tutti, da tutti o la maggior parte comunque giornali spagnoli che danno addirittura perfatta, perfatta la trattativa tra Juventus e Suarez. Ricordiamo che Suarez, molto probabilmente anche la, non solo i guaino Juventus, ma bisogna aspettare anche che Suarez si liberi dal Barcellona a 0, molto probabilmente. Speriamo vada bene, ok? Perché se devo scegliere tra tutti gli attaccanti che ho sentito, Suarez sarebbe oro colato a 0. Sinceramente, andando a risparmiare sull'attacco, ovviamente con l'ingaggio no, gli fai magari un biennale con opzione per il terzo, massimo, e ti butti a capofitto sul centrocampo per investire soldi importanti, ad esempio, Suarez. Anche lì, però, ci vanno delle eccessioni, come un Bernardeschi, come un Costa o come altri giocatori, ok? Buonanotte a tutti, sempre comunque, fino a fine, forza Juventus!